Dopo due anni di assenza, causa Covid-19, torna il trofeo Gino Visentini e torna a Bagnolo di Nogarole e Rocca un altro lunedì di Pasqua di grande festa. Si corre anche per la medaglia d'oro Mario Natalino e Silvano Miriamoli e per la seconda prova del prestigio Allè con l'organizzazione del pedale Scaligero ma soprattutto con il grande lavoro del gruppo sportivo Mario Miriamoli, del presidente Fausto Marani e la supervisione di Pietro Campagnari. Sono 152 gli atleti impegnati sulle strade veronesi, avete visto ospite dell'organizzazione per abbassare la bandiera dello start anche l'esperto Bruno Reverberi, team manager della Bardiani CSF Faizanè. Sicuramente un'occasione per lui per dare un occhio sui giovani talenti che stanno crescendo nella categoria Elite e Under 23. Al via tutte le migliori formazioni provenienti da tutte le parti d'Italia per una prova che si dipana sulla distanza dei 100 km. Circuit tradizionale quello di Bagnolo di Nogarole e Rocca, veloce, scorrevole e adatto ovviamente alle ruote veloci. Vedete che il gruppo via via con il passare dei chilometri aumenta l'andatura, aumentano anche gli scatti in testa al plotone e il pubblico che in questo lunedì di festa è sulle strade di Bagnolo per gustarsi questa manifestazione non può che esserne felice. Quando siamo al chilometro 15 ad evadere sono due corridori. Si tratta di Pietro di Genova, della calzaturieri Montegranaro e di Davide Dapporto dell'Inemiglia Romagna. Questi due atleti riescono a guadagnare un vantaggio massimo di due minuti sul resto della corsa e proseguono di comune accordo. Alle loro spalle invece il gruppo sembra non avere voglia di lanciare l'inseguimento e quindi disco verde per i fuggitivi con la situazione che si stabilizza in favore dei coraggiosi di giornata. Ma prima di entrare nelle fasi decisive della corsa andiamo ad ascoltare il saluto delle autorità, degli amministratori e degli organizzatori per questo grande ritorno della classica del lunedì di Pasqua a Bagnolo di Nogarole Rocca. Siamo con il primo cittadino di Nogarole Rocca, Luca Trentini. Una grande gioia per il ritorno del trofeo Gino Visentini. Finalmente siamo tornati a poter rivivere la corsa ciclistica del lunedì di Pasqua a Bagnolo. Dopo due anni di stop riprendere è una cosa molto importante perché è una corsa che ha un grande blasone, una storia e il rischio era di perderla. Quindi sono particolarmente contento perché oggi ripartiamo, è una ripartenza in grande con una grande partecipazione sportiva e anche con una giornata stupenda. Quindi torniamo veramente a ripartire pienamente dopo la pandemia anche dal punto di vista sportivo. Una grande giornata di sport. Quello che possiamo fare per stare a fianco di chi promuove lo sport e il ciclismo in particolare lo facciamo sempre molto volentieri. È uno sport che non è uno sport al chiuso, è uno sport all'aperto che quindi fa vivere il territorio e mette in luce e in risalto anche le peculiarità della nostra campagna nogarolese. Anna Leso, oggi consigliere comunale della comune di Verona qui a Bagnolo di Nogarole Rocca perché il ciclismo non può mancare nel lunedì di Pasquetta. Devo dire che è una gioia essere qui dopo due anni di fermo e riprendere un po' di normalità. Ne avevamo veramente bisogno e farlo con questo sport che accomuna tutti, che si vive all'aria aperta, che dà speranza è veramente una cosa positiva. Fausto Marani, presidente del gruppo sportivo Mario Miriamoli, che emozione rivedere i corridori su queste strade. È un onore per me avere tutti questi corridori qua, bellissimo, una giornata stupenda, piena di gente, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E allora dopo aver ascoltato l'emozione degli organizzatori per questo grande ritorno del trofeo, Gino Vicentini, edizione numero 75. Con le nostre immagini passiamo a 5 tornate al termine, mentre ancora in azione la fuga di Pietro Di Genova e Davide Dapporto, che ora però viaggiano con 1 minuto e 40 secondi sul resto della corsa. E in testa al gruppo fanno capolino anche le maglie di tutte le squadre delle ruote veloci, a partire da quelle della Zalfero Mobile Desiree Fiore. Quando siamo ormai in vista del suono della campana, si materializza quindi il ricongiungimento con Davide Dapporto, che non ci sta e tenta il tutto per tutto per resistere al ritorno del gruppo. Un ritorno che però è inevitabile, così come è inevitabile un epilogo a ranghi compatti. Il pubblico delle grandi occasioni di Bagnolo di Nogarole Rocca attende quindi le ruote veloci sul traguardo e a spuntare davanti a tutti è Matteo Fiaschi della Opla Petroli Firenze. Ma su di lui torna subito Alberto Bruttomesso, che lo supera e va così a conquistare la sua terza affermazione stagionale. Seconda piazza per Davide Catellan, anche lui della Zalf, quindi Francesco Della Lunga della Colpa Caballan. Seguono Matteo Fiaschi, Francesco Calì, Michael Comin, Alessio Portello, Simone Buda, Davide Vignato e Lorenzo Cataldo. È stata una corsa controllata fino agli ultimi 30 km. Poi le varie squadre hanno accelerato per andare a prendere la fuga. Qui nel finale non sono uscito benissimo in curva perché mi è scesa la volantina piccola. ho perso un po' di metri però poi mi sono ripreso e sono riuscito a rimontare e sono riuscito a vincere.